Grazie Presidente, Vice Ministro, Relatori. Come sapete, il Movimento 5 Stelle nelle varie commissioni ha espresso un parere negativo. Non solo perché va da sé che chi è all'opposizione una legge delega a un Governo la guarda con un certo sospetto. Ma soprattutto per i contenuti, la preoccupazione più significativa è che c'è una specie di cambiale in bianco. I contenuti, i perimetri della delega sono evanescenti fondamentalmente. Quindi un po' di preoccupazione in questo senso lasciatecela, consentitecela ovviamente. In realtà si tratterebbe di una riforma fiscale che va indietro negli anni, una specie di restyling di una norma vecchia di 50 anni. Una delle preoccupazioni è stata espressa un po' da tutti e che non c'è niente rispetto alla tassazione della nuova economia, dell'economia digitale. Anche rispetto alle web tax siamo, come dire, molto teneri. Noi lo vediamo anche, questo decreto delega, lo vediamo anche come, questo provvedimento delega, lo vediamo anche come un concentrato di contraddizioni. Si parla di equità orizzontale, il principio secondo cui a parità di reddito tutti devono pagare la stessa imposta, ma di fatto siamo di fronte a esplosione di imposte sostitutive per cui ognuno paga in base al regime che gli capita. Questo comporta delle sperequazioni tra contribuenti, tra dipendenti e lavoratori autonomi, addirittura all'interno delle stesse categorie di autonomi e imprese. Quindi queste sperequazioni non si risolvono. Lo vediamo per certi versi in termini di contraddizione come un vero simoro quando si parla di riduzione della tassazione da un lato e dall'altro si parla di una tutela della sicurezza sociale, appalesando quello che di nuovo è una delle nostre preoccupazioni più grandi, che la maggioranza rischi di entrare di nuovo in un meccanismo manipolativo di false promesse, di giravolte a cui oggettivamente siamo abituati. Ma sulla legge fiscale questo, dal nostro punto di vista, ha detto bene il Vice Ministro, in questo senso la legge fiscale dovrebbe essere in qualche modo il più possibile condivisa, il più possibile trasversalmente condivisa. Allora si dovrebbe partire dall'idea che i diritti non sono concessi ma vanno garantiti con la fiscalità generale. Questa idea della tutela della sicurezza sociale deve andare in quella direzione, con il concorso fiscale progressivo in base alla capacità contributiva, eliminando i sistemi tributari francamente regressivi, come del resto recita l'articolo 53 della Costituzione. E perché no, attraverso anche la tassazione degli extraprofitti di aziende e soggetti che hanno speculato sull'attuale crisi? Dall'energia alle armi, dalle assicurazioni alle banche, alle aziende farmaceutiche e all'azienda del web, come si diceva poc'anzi. Quindi diciamo che questa ostilità all'idea di prevedere che si possano tassare gli extraprofitti di chi ha speculato non solo sulla crisi attuale ma anche sulla pandemia è una cosa che ci lascia la mano in bocca. Si poteva mettere come perimetro da suggerire al governo in questa delega, invece non si è fatto. La patrimoniale occulta esce già. La stanno pagando gli italiani privati del proprio potere d'acquisto e di 61 miliardi di risparmi a causa dell'inflazione e del caro mutui. Certamente una vera lotta all'evasione fiscale passa anche attraverso un monitoraggio attento in grado di incrociare dati fiscali. Questo rappresenta un nodo fondamentale per combattere sul serio problemi di corruzione, collusione, evasione, falso in bilancio, che verrebbero praticamente debellati alle radici. Quindi questo è un segnale che c'è in questa delega, ma è debole, ancora troppo tenero. Bisogna andare un pochino più a fondo, anche perché la speculazione e il riciclo del denaro sporco può essere combattuta attraverso un sistema serio da questo punto di vista e si può colpire in tal senso uno dei tentacoli della piovra mafiosa in maniera significativa. Il problema è che, e questo ce ne duole, è che a partire dalla regia di bilancio fino alla infelice affermazione della Premier sul discorso del pizzo di Stato, peraltro l'ha pronunciato proprio in Sicilia, questa maggioranza tra condoni occulti, innalzamenti dei tetti di contante, tentativi di rendere non obbligatori i POS, in realtà continua a strizzare l'occhio agli evasori. Quindi ce lo chiediamo di quale delega si parla, di che cosa si parla. Non solo si continua a far cassa sui poveri, e se visto con questa lotta contro il reddito di cittadinanza, sui lavoratori, precarizzandoli ancora di più con il decreto precarietà ed esclusione sociale siglato proprio il primo maggio facendo la festa ai lavoratori, e si fa cassa ancora mantenendo il ruolo di biscaziere allo Stato nello stesso gioco d'azzardo, promuovendolo ogni volta che c'è da far cassa, senza far niente per scoraggiarlo. Anzi, si mantiene l'invarianza di gettito per garantire entrate allo Stato e ai concessionari. In passato e attualmente, anche col decreto alluvioni, addirittura si incoraggia con lo scopo di finanziare le ricostruzioni. Credo sia una cosa scandalosa, da questo punto di vista, far cassa per ricostruire attraverso il gioco d'azzardo o attraverso l'aumento del biglietto per entrare ai musei. Si penalizza le fasce più povere e si penalizza la scuola. È una cosa che a noi non convince. Chiariamoci, coloro che azzardano perdono sempre. Dobbiamo averlo chiaro. Se è deciso di lasciare tutto com'è, si è deciso di far pagare a chi soffre. Questo è fuori discussione. Del resto è una questione di algoritmi, di previsioni pregiudizievoli. Chi vince è sempre il banco. Ogni 100 euro giocati, per esempio al grattevincio o alle slot, a prescindere, 25 di questi euro vanno in profitto per i concessionari o per lo Stato, che poi anche alle vincite, sopra i 500 euro, applica una tassazione aggiuntiva. Vorrei che quest'Aula potesse avere l'occasione di essere un pochino più sensibile a questo tema, quindi lo approfondisco in maniera un pochino più dettagliata. La stessa semantica, Presidente, sull'azzardo, andrebbe meglio chiarita. Non si dovrebbe più parlare, non lo dice Andrea Quartini, lo dicono tutte le società scientifiche che si occupano di gioco d'azzardo, non si dovrebbe più parlare di azzardopatia, di ludopatia, di gioco d'azzardo patologico, concetti che circoscrivono a pochi soggetti malati il problema. Ammesso che un milione e mezzo di famiglie coinvolte nel disturbo da gioco d'azzardo grave, e non solo loro, a volte intere comunità, siano poche. Si dovrebbe parlare appunto di disturbo da gioco d'azzardo, con passaggio progressivo dalla cosiddetta normalità alla patologia grave e conclamata. Questo concetto, ormai consacrato dalla letteratura scientifica, ci suggerisce che l'azzardo, disturbo da gioco d'azzardo, può riguardare ciascuno di noi. Nessuno si può considerare al riparo dal rischio di sviluppare un problema serio. Preoccupa in tal senso molto, ma molto, l'iniziazione all'azzardo tra i giovani, che sappiamo prima si comincia più c'è il rischio di una dipendenza. Si sta parlando di un milione e mezzo di dipendenti dal gioco, di due milioni e mezzo di giocatori problematici, che ancora non hanno le caratteristiche diagnostiche della dipendenza, di sei miliardi che lo Stato spende per le patologie correlate, di tre miliardi e ottocento milioni di sottrazione IVA sui consumi delle famiglie. Ma veramente allo Stato conviene. Recupera grosso modo otto miliardi, dieci miliardi, ne perde tre e otto di sottrazione IVA sui consumi delle famiglie, ne perde sei miliardi per curarli. Ancora siamo fermi a questo ragionamento, che è un ragionamento folle. Come si può pensare che lo Stato possa far cassa su una patologia come questa e ci costa di più della cassa che si ottiene? Gli unici che ci guadagnano sono i concessionari, non ce ne sono altri. E in questo decreto fiscale si va avanti con l'idea sul gioco d'azzardo del mantenimento dell'invarianza di bilancio. Il disturbo dal gioco d'azzardo, più che alle perdite nette dei giocatori, si correla al tempo dedicato. Oltre cento milioni di giornate lavorative ogni anno sono impiegate da chi gioca d'azzardo per il gioco. La raccolta di gioco d'azzardo ha toccato il record nel 2019, 110 miliardi. Nel 2021 ha recuperato la flessione dovuta alla pandemia e sfondato tale livello nel 2022, con un valore stimato fra i 130 e i 140 miliardi. Recentissimi studi denunciano ripresa di gioco d'azzardo fra i minori. Il fenomeno porta a prevedere, negli anni immediatamente a venire, una recrudescenza dei fenomeni sociali di patologia e disagio tra adulti, giovani e minorenni. Va considerato che la precoce iniziazione al gioco d'azzardo è correlata a un maggior rischio di sviluppare dipendenza e forme più gravi e difficili da curare. È erroneo limitarsi a considerare unicamente le entrate derivanti da azzardo e non anche le alternative in termini di opportunità nell'orientamento della spesa, nonché le esternalità negative derivanti dal gioco d'azzardo di massa. Anche prescindendo da tutto ciò sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute della famiglia, del risparmio, della sicurezza, debbono intendersi sovraordinati agli interessi fiscali, come hanno ben riportato svariate sentenze della Corte Costituzionale, dei tar del Consiglio di Stato, ma anche dalla Corte dei Conti. Sempre in chiave semantica, dovremmo smetterla di chiamarlo gioco. Scusate, ma la parola gioco evoca un divertimento. L'azzardo evoca stress, evoca paura, evoca rischio, evoca pericolo, non evoca divertimento. Pensate alle famiglie in cui c'è un giocatore d'azzardo, dove i figli sviluppano a livelli drammatici patologie psicosomatiche. Loro stessi sono a rischio di sviluppare una dipendenza da alcol, da droghe, da tabacco e dallo stesso gioco d'azzardo. Come si fa a parlare di gioco? Sarebbe l'ora di cambiare da un punto di vista semantico. È un messaggio importante anche a livello culturale. Chiamiamolo semplicemente azzardo e non chiamiamole sale giochi. Chiamiamole sale scommesse, sale del rischio, come volete. Chiamiamole come vogliamo, ma non chiamiamole sale giochi. È una truffa semantica, è un rischio grosso che noi si trasferisce soprattutto alle giovani generazioni. L'ambiguità semantica resta inoltre sul conciliare il codice penale, che ancora oggi proibisce il gioco d'azzardo, con la prevenzione e tutela dello stesso, indotto dai giochi cosiddetti leciti per aggirare l'ostacolo del codice penale. Tant'è vero se continuano a parlare di giochi leciti sapendo che il codice penale ancora oggi proibisce il gioco d'azzardo. Ma quale ipocrisia ci può essere dietro a questo nostro modo di legiferare? Sappiamo bene che il gioco d'azzardo è illegale, allora ci siamo inventati la formula del gioco lecito per far cassa. Ma poi che cassa è se poi ci si rimette il doppio? Ora esagero, forse non è il doppio, ma gli stessi soldi che si guadagnano facendo cassa si spendono per la cura delle patologie derivanti. Fino alla fine degli anni Novanta il gioco d'azzardo era confinato in luoghi e tempi predefiniti. Nel 2003 viene liberalizzato in maniera molto consistente con l'idea del machine gambling, che è la forma più pericolosa, capace di ingegnerizzare la dipendenza. Si concede all'industria dell'azzardo di accedere a luoghi primari di socialità, rompendo le barriere di confinamento logistico e temporale. Bar, circoli, ricreativi, ristoranti, senza nessun vincolo né di luogo né di orario. In particolare, fino al 96 non avevamo solo il totip, il totocalcio e il lotto. Nel 97 le prime sale scommesse e poi le sale bingo. Nel 2003, anno di svolta, la legge finanziaria introduce le slow machine, fino ad allora vietate. Nel 2009-2010 decreto per il terremoto Abruzzo, nuove lotterie e estrazioni istantanee e le famose VLT. Nel 2012-2013 alcune regioni italiane cominciano a preoccuparsi e si ribellano con leggi regionali volte a contrastare la diffusione incontrollata del gioco sul territorio. Come non ricordare lo scandalo del 2012? Dopo cinque anni di battaglie, la Corte dei Conti attribuisce una multa di 2,5 miliardi di euro a dieci concessionari di slow machine. In primo grado viene dimostrata la colpa delle suddette concessionarie di non aver collegato le macchine alla rete dei monopoli, che ne poteva, doveva controllare l'attività. La sanzione, in caso di non rispetto degli obblighi, prevedeva multe pari a 50 euro per ogni ora di attività non collegata. Secondo la Guardia di Finanza, c'erano da saldare 90 miliardi di euro. La Corte dei Conti non la pensava così e decise di accogliere la richiesta subordinata di appena 2 miliardi e mezzo. Tuttavia, il Governo Letta, d'accordo con Berlusconi, trovano una soluzione ancora più favorevole a concessionari. Sconto di tre quarti. Se pagano rapidamente, un modo per trovare le coperture per l'abolizione del Limu su prima casa, secondo il Governo, si può praticamente ridurre di tre quarti quei 2 miliardi e mezzo. È evidente che, all'epoca, il Governo si inginocchiò di fronte a signori del gioco d'azzardo, con uno scandaloso condono che ridusse le sanzioni per i concessionari di slot e videopoker. Porre come obiettivo prioritario della riforma del gioco d'azzardo il mantenimento dei ricavi per lo Stato è una illusione sciagurata che dilata i rischi e i danni sociali. La tassazione sui giochi d'azzardo è doverosa, ma deve andare nella fiscalità generale, non essere usata per coperture specifiche. È come finanziare le cure oncologiche promuovendo il gettito da sigarette. Ricordiamo il decreto L'Aquila? Proviamo a rammentarcelo, quel decreto L'Aquila, che è simile al decreto alluvioni di oggi. Introdusse nuovi giochi d'azzardo per finanziare la ricostruzione dell'Aquila. La città non è stata ricostruita e la sua provincia è diventata il territorio più martoriato dall'azzardo, perché il sistema ha indotto il gioco. Un Paese che è al dodicesimo posto per reddito non può sostenere il primo mercato d'azzardo d'Europa. L'Italia è quarta al mondo in gioco d'azzardo, ha un triste primato, prima in Europa. È quarta dopo USA, Cina e Giappone. La spesa in azzardo è un prelievo, di fatto, sulle famiglie e sui territori a minor reddito. È confermato da svariate analisi che la propensione a giocare d'azzardo aumenta al diminuire del reddito, al nord come al sud. Nella provincia di Ruvigo, unica in Veneto con redditi sotto la media nazionale, si azzarda il 40% in più. Si può quindi, dunque, considerare un semplerevo erariale implicito in contrasto con il principio costituzionale che chi è meno abbiente deve pagare meno tasse e con la necessità di coesione territoriale. Circa la metà della spesa in azzardo è sostenuta da comportamenti patologici e problematici. Lo denunciano da tempo associazioni di studio come Alea e, cosa abbastanza sorprendente, è confermato implicitamente dalle dichiarazioni dell'ex direttore Minenna, dall'allora direttore del comparto Giochi Saracchi e dal sottosegretario Freni, rese in audizioni nelle commissioni parlamentari di inchiesta, oltre a diversi esponenti del settore. Essi affermano, infatti, che i servizi di gioco d'azzardo denotano una domanda anelastica. Ebbene, la domanda anelastica è tipica per i beni di prima necessità, o per consumi che hanno alla base una componente di dipendenza. I trend in atto mostrano un continuo spostamento dei consumi d'azzardo dalla rete fisica, bingo, gratte e vinci, slot, sale scommesse, verso i canali di offerta online, dove la percentuale di tassazione è nettamente inferiore. Per esempio, nel cosiddetto betting exchange, arriviamo a prelevi inferiore all'1%. Va da sé che, pur aumentando il consumo totale, le entrate erariali dopo anni di lenta crescita vanno e andranno riducendosi. Confrontando i dati dell'ultimo decennio, si nota già che dal 2011 al 2021 le entrate erariali sono scese da 8,8 a 8,4 miliardi, mentre la raccolta, ovvero il volume totale di giocate, si è impennato da 79 miliardi a 111 miliardi. È importante sapere che i danni psicologici, sociali e familiari non sono correlati alle entrate fiscali, ma al tempo trascorso, come ho già detto precedentemente, nel praticare o a pensare al gioco d'azzardo. Ne deriva che, a fronte di un gettito erariale inferiore, si è aumentato un fattore di rischio ambientale di oltre il 40%. Mantenere il gettito fiscale oggi significa lasciare esplodere la situazione sul piano sociale. Lo Stato offre condizioni di favore per incentivare l'adezione spontanea al circuito legale, non disponendo dei mezzi per eradicare l'illegalità. Sul medio periodo, la possibilità di garantire in varianza di gettito, allineando il sistema di prelievo sull'online alla raccolta fisica, appare dunque illusoria. Noi sappiamo, per esempio, che durante il lockdown e durante le chiusure per la pandemia c'è stato un calo di gettito di oltre 4 miliardi nel 2020, che sono stati assorbiti nel bilancio statale senza traumi, pur concorrendo alle necessità di scostamento. Va considerato, peraltro, che la diminuzione del gettito è strettamente correlata a una diminuzione delle perdite e delle sofferenze per le famiglie. I giocatori patologici nei colloqui presso i centri di cura riferiscono che durante il lockdown hanno ridotto o smesso di giocare, e stiamo parlando delle persone a apparenza in cui ci saspetterebbe che fossero transitate su consumi online durante la pandemia o verso circuiti illegali. Invece il fenomeno è molto conosciuto. Il craving, la petizione patologica, il desiderio di bere, che si vede anche nei problemi alcol correlati, è stato studiato lì e che, come è presente per il bere nelle persone con problemi alcol correlati, è presente anche nei giocatori d'azzardo patologico. Questo desiderio importante, il desiderio irrefrenabile di giocare, il desiderio impulsivo scompare o si attenua fortemente quando la sostanza o il comportamento non sono disponibili. Le chiusure hanno migliorato il potere d'acquisto e la qualità della vita nelle famiglie fragili. Sono stati miliardi spesi diversamente, a vantaggio di altre filiere produttive e commerciali, peraltro a maggior assorbimento di mano d'opera, che hanno portato gettito e contribuzione alternativa e hanno ridotto la necessità di assistenza pubblica a tantissime famiglie in difficoltà. Con tutta la comprensione che noi abbiamo nei confronti dei dipendenti del settore, lockdown e chiusure non hanno favorito enormemente le mafie. Come alcuni sostengono, lo stesso procuratore nazionale antimafia ha chiarito in sede ufficiale che il fatto che potessero favorire il gioco illegale sono ipotesi meramente presuntive. Nel 2019 del resto sono stati chiusi più di mille siti illegali, mentre nel 2020, a fronte di una serita esplosione, ne sono stati chiusi meno di 300. Analogamente, nei primi cinque anni in cui è stata in vigore la legge regionale del Piemonte e accalmerato l'offerta d'azzardo, sono diminuiti sia i consumi d'azzardo che i malati, mentre non risultano aumentati i casi di illegalità. Giova ancora a ricordare che l'infiltrazione mafiosa nell'offerta legale ha raggiunto livelli che finalmente vengono riconosciuti da monopoli. Una trentina di concessioni sono state revocate per la vicinanza dei titolari alle consorterie mafiose. In Sicilia sono state scoperte reti che controllavano qualcosa come 400 riceviterie di scommesse regolarmente autorizzate, che però giravano sotto banco le puntate sui siti illegali, promuovendo tali canali anche per un consumo diretto da casa. La rete legale faceva dunque da procacciatore di affari per quelle illegali. Nel territorio della provincia di Bari la gestione delle slow machine legali era condizionata dalla criminalità organizzata, al punto che il procuratore capo Roberto Rossi ha recentemente denunciato che non si può più parlare di infiltrazione. La mafia ha assunto il controllo. Tutto questo è stato riportato ampiamente nella relazione della Commissione antimafia uscente. In definitiva, pur riconoscendo che su una simile riforma si debba procedere con prudenza, con cautele, senza scompensi, pensare di porre come premessa intoccabile. Il mantenimento delle entrate, dunque un'ulteriore espansione dei consumi, non è recevibile sotto ogni punto di vista che sia compatibile con il bene pubblico. Per questo noi abbiamo presentato alcuni amendamenti, anche questi ovviamente bocciati in sede di Commissione. Una parte di questi proveremo a riproporli in Aula e speriamo che ci sia una maggiore sensibilità da parte della maggioranza e del Governo. Grazie. Grazie.